è il primo presidenziale allora adesso è la prima gara che faccio sono le 9.25 è un po' a quarto io sono pronto già il quarto di bisogno è il primo presidenziale 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 E' un po' di tomate. Ecco qui il chilometro, 38 minuti Ecco qui Ecco qui Ecco la passata E' quella delle foto o quella? Della maratona Ecco il 15esimo chilometro Un'ora e 57 Andiamo bene adesso Meglia di 7,7 Eccoci qua Siamo al ventesimo chilometro Due ore e 34 20 chilometri Meglia di 7,8 Vado benissimo Tutto bene Vedete è la mezza 21,2 Due ore e 43 24 e mezzo Abbiamo 24 e mezzo Abbiamo Occio stagli fermo Stai fermo che vai adesso Eccoci qua siamo al 25esimo chilometro 3 ore e 15 Andiamo bene andiamo alla grande Tutto bene 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 Incesa Ecco il trentesimo chilometro 3 ore e 53 4 ore e 34 Sì 35 chilometro 3 ore e 35 chilometro 4 ore e 34 Sì 35 Sì 35 Siamo al 40esimo chilometro 40 chilometri in 5 ore e 0,1 Che bene Una mezza di 8 a ruolo 3 ore e 0,2 3 o 0,5 Scrito Grazie Arriba Grazie Buon attacchi bene dai Ok ci siamo Bravo 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 Grazie Grazie mille Buried away, buried away